Il vostro stato d'animo tra di voi con gli occhi, non c'è bisogno di parlare, basta di parlare. Rimandiamolo gentilmente perché non si è sentita la prima parte e così lo sentiamo bene, perché sono parole troppo belle e così abbiamo l'occasione per sentire la voce di Pierre l'ultima volta. Ascoltate bene. La felicità non si misura con i sorrisi, non si misura a spagna, non si misura, ma si misura col cuore. Quando il cuore ride gli occhi trasmettano la felicità. Io vi auguro di trasmettere sempre il vostro stato d'animo tra di voi con gli occhi. Non c'è bisogno di parlare, basta guardarci. Non diciamo altro, lo dicevo, diciamo grazie. Grazie a voi, grazie Fabrizio. Grazie. Grazie a tutti, grazie veramente grande. Sei stato un regista, sei stato un regista formidabile. Abbiamo degli artisti straordinari, sono dei professionisti che si sono messi in gioco per questo ricordo meraviglioso e vanno tutti ringraziati, tutti, ma veramente con un applauso da spellarsi le mani. Con un regista appassionato, innamorato di questa musica che mi ha stupito. Fabrizio conosce più pezzi di mio papà, di quelli che io ricordo. Sono basito, tra lo stupito e il perplesso. Sono meraviglioso, grazie. Diciamo grazie. E per dire grazie abbiamo preparato un piccolo attestato e per le signore un omaggio floreale. Grazie.